Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello, in direzione Bologna. Rallentamenti per una perdita di carico tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano, Sesto Fiorentino, in direzione Roma. Infippi lei code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. Sempre per viabilità esterna che non riceve rallentamenti tra la Strassigna e Firenze-Scandici, in direzione Firenze. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, per i cantieri della tramvia in via Pisacane, questa notte sono previsti lavori di pulizia, fognatura, in orario 21.5. Sempre a Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!